Assassini di bambini. Questi sono i fatti. Assassini di bambini non come effetti collaterali, come li chiamavano. No, no, assassini di bambini perché vogliono ammazzare i bambini. Li vogliono ammazzare in tutti i modi. Il governo israeliano ammazza i bambini. Forse non mi sono spiegato. Il governo israeliano scientemente ammazza i bambini. Li ammazza direttamente e li ammazza indirettamente bloccando gli aiuti umanitari. Il governo israeliano ammazza i bambini. C'è un governo che con la condiscendenza e il bene placito anche del nostro governo ammazza scientemente i bambini. Israele sta scrivendo una delle pagine più nere della storia dell'umanità. Siccome è difficile veramente, io rimango in ostaggio di me stesso in queste settimane, in questi giorni, perché ne avrei voluti fare di video, ma incomincio a domandarti con che misura, con che in modo da sollecitare quale tipo di riflessione. Mi serviva una premessa per il messaggio che voglio dare e mi sarei dovuto mettere a fare un montaggio come ne ho già fatti. Comunque ho già dimostrato di saper unire i puntini, ma non ho di nuovo lo stomaco per rimettermi a rivedere e a soffrire mentre si mettono insieme queste immagini. Approfitto quindi di Matteo Gracis, che lui ha fatto una sintesi magnifica, e rifà di nuovo il punto della situazione, ma poi io non approfondirò quello che ha detto lui, al limite mi appoggio. E quello che dirò io a seguire è cosa mia. Quindi la sinergia tra quello che dice lui, ma anche quello che magari direbbe un dibattista, è tale come concetto per quello che sta accadendo. Invece la mia posizione è soltanto la mia. Benissimo, detto questo ascoltiamo il messaggio di Matteo Gracis. E molti lì fuori, è evidente, non se ne stanno minimamente rendendo conto. Ma ci siete o ci fate? La conta dei decessi ha superato i 30.000 morti, di cui 12.000 bambini e 8.000 donne. Giorno dopo giorno aumentano gli atti di disumanità a cui assistiamo. A Gaza la fame è usata come strumento di guerra. Gli israeliani organizzano feste con bambini e musica per ostacolare il passaggio dei tir che trasportano aiuti umanitari. L'esercito israeliano pubblica video in cui vengono distrutte le provviste destinate alla Palestina, con canzoni allegre in sottofondo. E dopo averli portati alla fame e alla disperazione, l'altro ieri le forze israeliane hanno aperto il fuoco su una folla di civili ammassati per ricevere provviste di prima necessità, causando almeno 100 morti e oltre 700 feriti. La reazione del presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, è stata un post in cui dice che è urgente che Israele accerti la dinamica dei fatti. Cioè, secondo lei, i colpevoli della strage dovrebbero accertare la dinamica dei fatti. Ma dove cazzo trovano il coraggio per dire certe cose? Nel frattempo l'Italia continua a vendere armi a Tel Aviv, l'Europa continua a dargli pieno supporto e gli Stati Uniti d'America vanno oltre, continuando a bloccare le risoluzioni ONU per un cessato il fuoco. Devo trattenere il vomito mentre lo dico. La scorsa settimana a Washington un soldato americano di 25 anni si è dato fuoco di fronte all'ambasciata israeliana, urlando non sarò più complice del genocidio. È morto in ospedale qualche ora dopo. Tranne esporadici casi isolati e che rimangono tali, l'indifferenza e il silenzio di fronte a questa carneficina continuano a regnare sovrani. E i mass media, come al solito, continuano il loro lavoro sporco, fatto di propaganda, distrazioni di massa, notizie distorte o del tutto ignorate. Concludo da dove ho iniziato, ribadendo che Israele sta scrivendo una delle pagine più nere della storia dell'umanità. Io ne sono testimone e la mia coscienza, prima della mia professione, mi impone di parlarne, di provare nel mio piccolo a smuovere altre coscienze, di informare coloro i quali vogliono ancora essere informati. A chi mi chiede come faccio a parlare ogni giorno di quello che succede a Gaza, rispondo come fate voi a non parlare ogni giorno di quello che succede a Gaza. Non mi interessa, anzi non mi schifa chi ha intenzione di fare del male, nel senso come ho già detto, il generale che fa il generale, fa il generale. Lui sta portando avanti la sua guerra assassina, lui sta portando avanti i suoi propositi di pulizia etnica, ma è coerente. Non mi schifa a livello di coerenza un comportamento del genere, mi schifa e non ragionare sul perché si possa essere arrivati a questo e quindi il concetto di propaganda e quindi il concetto di potere. Perché se non ci si ferma a pensare su queste cose, ma di che cazzo parliamo? Perché automaticamente si annichilisce ciò che viene chiamata presa di coscienza. E allora ecco che mi schifa molto di più vedere gli utili idioti che inneggiano e sono contenti se in Sardegna, ipoteticamente, perché ancora non ho capito cosa è successo, vinca un partito, vinca un personaggio invece che un altro. Ma loro non avete veramente capito un cazzo? Ma loro ancora andate a votare? Ma loro non avete capito che chiunque vada a votare non potrà avere nessuna possibilità di mettere in moto un processo purificatore. Ma non ci arrivate? Sono 50 anni che non serve votare. Se servisse a qualcosa votare non te lo farebbero fare, come diceva Mark Twain. Figuriamoci adesso. Quindi quello che non avete capito, se proprio volete essere degli utili idioti, cioè ancora essere così coglioni da entrare in una cabina elettorale e firmare per votare. Ma votate la Meloni. Votate la Meloni e votate tutti quelli che sono complici con la Meloni. Chiunque stia con la Meloni, votatelo. Almeno accelerate questa merda. Almeno la accelerate. Non votare la Meloni è un atto di idiozia. Se proprio volete votare, votate tutto ciò che riguarda la Meloni. Votate la destra e l'ultra destra se potete. Perché altrimenti svegliatevi, svegliatevi. Se andate a votare qualcuno che è contro la Meloni, state di nuovo rifacendo il gioco. Ma lo sapete oppure no? Sì che lo sapete. Perché quando si vanno a vedere i messaggi e si vede che la maggioranza sa che questi sono dei burattini, che sono dei collusi, che sono dei prezzolati, che sono dei camerieri. Ma allora due domandine ve le dovete fare in quella testa che avete su quel cazzo di collo, no? E quindi sapete che se sono dei burattini, i prossimi saranno altri burattini. Cosa cazzo pensate che dovrà cambiare mai? L'unica maniera è votare. Pardon, l'unica maniera è voltare. Oh che bello, questa cosa mi è venuta su adesso. Come per una lettera soltanto, per una consonante, proprio c'è la giusta divergenza. Votare e voltare. Voltare le spalle al sistema. Voltarlo completamente e non andare. Perché ricreate il gioco del dividi e timpera. Di nuovo. Ma non ci arrivate. Se andate a votare anche contro la Meloni o qualsiasi cosa che sia indirettamente contro la Meloni, state facendo un favore a quelli che tirano le fila. Perché ridate di nuovo forza al teatrino del dividi e timpera. Ma pensate che non le sappiano queste cose, razza di coglioni? Pensate che non le sappiano? Ma che cazzo andate a votare ancora? E ancora si gasano che in Abruzzo vedrete che la Meloni, che la Meloni la prenderà in quel... Ma che cazzo se ne frega? Quando non ci sarà la Meloni? Ci sarà un'altra. Quando non ci sarà Netanyahu? Ci sarà un altro. Ma ci volete arrivare oppure no? Che la questione è una questione ideologica di sovrastruttura, di un potere, di una forza che ha acquisito una forza cinetica tale che non la fermate giocando con le loro cazzo di manipolazioni e con i meccanismi che loro stessi vi mettono nelle mani. Ma come cazzo fate ad accettare l'idea che un nemico venga da voi e vi dica tieni questa è l'arma con cui mi devi combattere. Ma allora sei proprio coglione sei. Ma non sei proprio coglione. Ma coglione con tutte le lettere maiuscole. Ma come cazzo fai ad accettare l'idea che un sistema che sai che è corrotto, totalmente, completamente corrotto, marcio, venduto, colluso, ti venga a dare la possibilità di darti le armi perché lui si è combattuto? Di nuovo gli stai dando la possibilità di tenere in piedi questo teatrino di merda. E chiedo scusa alla merda. Ancora andate a votare. E sto additando coloro anche che sono, che sarebbero contro il neonazismo israeliano. Allora siete collusi anche voi perché nel momento che andate a votare state di nuovo fomentando questo cazzo di teatrino. Chiunque andasse, chiunque andasse ad occupare una poltrona, anche se avesse la forza e sarebbe miracoloso di non farsi corrompere e sarebbe miracoloso. Comunque non avrebbe nessuna carta da giocare perché il sistema è mastodontico, è mastodontico, è corrotto da tutte le parti, anzi non è che sia corrotto. Le cose vanno dette meglio. È completamente funzionale, è perfetto così.